Migliorano giorno per giorno i dati sul contagio in Abruzzo, ma non possono e non devono fare abbassare la guardia. Si ha ora una misura dell'R con 0, l'indice che identifica quanti individui immediatamente può contagiare una persona che è stata infettata dal covid. Sulla base dei dati fino al 5 maggio l'Abruzzo ha un R medio di 0.75, dunque al di sotto della soglia di 1 che è identificata come quella di pericolo perché quando R è uguale o superiore a uno l'infezione comincia a propagarsi con una certa forza. Il dato è stato diffuso a livello nazionale dall'Istituto Superiore di Sanità sulla base degli studi della Fondazione Bruno Kessler di Trento che ha fornito anche un margine all'interno del quale confluisce il valore medio che ha come minimo 0.52 e un massimo di 1.02. In generale più è ristretto il margine tra minimo e massimo più acquisisce consistenza il valore medio ricavato e nel caso dell'Abruzzo c'è una distanza di circa 0.5. Se guardiamo l'Emilia Romagna che ha un valore di 0.53 medio questo oscilla tra 0.48 minimo e 0.59 massimo che dà grande solidità al valore medio. Insomma nella nostra regione meglio non scherzare con il fuoco perché 0.75 è sì un valore sotto la soglia di pericolosità 1 ma è comunque superiore alla media nazionale che oscilla tra 0.5 e 0.7 e poi perché non è particolarmente solido dato l'ampio intervallo. Appena cinque regioni hanno un indice R medio superiore a quella abruzzese Sicilia che è sopra l'1, Puglia, Basilicata, Umbria e Calabria. Tutte regioni nelle quali più o meno il virus è stato contenuto nella fase più acuta dell'emergenza ma nelle quali una eccessiva esuberanza potrebbe essere controproducente in piena fase 2. Anche per questo che in Abruzzo si moltiplicano gli appelli da parte di esponenti istituzionali ad avere comportamenti prudenti. Il monito del sindaco di San Giovanni Teatino Luciano Marinucci. Cittadini non hanno riaperto le scuole, si vedono troppi ragazzi in giro, i ragazzi non possono andare in giro se sono stati tenuti a casa. Un motivo c'è, altrimenti avrebbero riaperto le scuole che erano quei luoghi dove era facile che il virus si potesse propagare. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiuso le scuole e i ragazzi stavano a casa. Adesso perché i ragazzi vanno in giro? Non è cambiato niente. Quindi alziamo la guardia. Attivissimo anche il sindaco di Francavilla al mare Antonio Luciani che sempre sui social spiega la razio della ordinanza firmata ieri con la quale impone a pedoni e ciclisti che transitano sulle ciclabili del suo comune di indossare la mascherina. Le piste ciclopedonali che già oggi sono piene diventeranno stracolme di persone e ho visto, ho potuto notare, constatare che molti, il 30-40% delle persone non indossano le mascherine anche laddove non c'è distanza. Ora, permettere a un vigile di fare una sanzione, di levare una sanzione e mettersi a discutere, no io stavo a distanza, non stavo a distanza, diventa problematico. Allora ho risolto il problema. Ragazzi, chi da ora, da questo momento, va sulla pista ciclopedonale, deve indossare la mascherina e non vale se sta correndo, se non sta correndo, se ha la bicicletta, il monopattino, mascherina obbligatoria per tutti in queste due zone. L'ordinanza vale da ora fino al 17 maggio.